Ciao a tutti amici nerazzurri, bentornati sul canale. Vi vedete qua oggi direttamente dallo studio di Settegoli, diretta stadio, dove stasera andrà in onda la puntata per seguire tutta l'Europa League. Però l'Europa League non ci riguarda in questo momento se non da appassionati di calcio per vedere le altre squadre, quindi per vedere la Roma di Mourinho e di Lukaku, per vedere l'Atalanta di Gasperini, per vedere la Fiorentina di Italiano in Conference League. Insomma è una serata che ci riguarda da spettatori. La nostra serata l'abbiamo vissuta ieri ed è stata una serata molto bella. Abbiamo esaminato un po' tutta la partita, abbiamo fatto le pagelle. Un Inter che gioca da grande squadra secondo me, ma non tanto, visto che per esempio Claudio Marchisio, grande centrocampista della Juvex, centrocampista della Juventus e della Nazionale, ha parlato dell'Inter come una squadra che ha vinto, ma non da grande squadra. Ecco, io la penso esattamente al contrario. Non è che una grande squadra dimostra di esserlo semplicemente perché gioca sempre un bel calcio. Assolutamente no, perché vince le partite sempre 4-0. Secondo me non funziona così. La grande squadra è anche quella che sa gestire la partita, sa gestire il risultato di una partita, sa gestire l'andamento di una partita in base al contesto di quella partita. Qua si parlava di un match da qualificazione diretta per gli ottavi di finale, cioè nel senso che bisognava vincerlo per passare con due giornate di anticipo. Non dovevamo perdere perché se l'Inter avesse perso avrebbe comunque messo a rischio la sua rincorsa verso gli ottavi di finale di Champions perché il Salzburgo si sarebbe avvicinato all'Inter in classifica e quindi l'Inter ha gestito una partita sapendo di non essere al massimo delle proprie forze, con tanto turnover, ha gestito una partita attenta, ha giocato compatta e ha colpito nel momento in cui doveva colpire perché non è che c'è solo il calcio di rigore. L'Inter ha avuto l'occasione con Bastoni, ha avuto un'occasione importantissima con Lautaro, il colpo di testa e la grande parata di Schlager che ha messo il pallone sulla traversa, ha avuto l'occasione di Bastoni. È stata una squadra frattesi, l'occasione di frattesi clamorosa, è stata una squadra che comunque ha saputo resistere alla vehemenza fisica del Salzburgo e poi ha colpito nel momento giusto. Il calcio di rigore ottenuto da Barella con quel fallo di mano è trasformato alla perfezione da Lautaro che è ovvio che è un giocatore di un altro livello, che quest'anno ha segnato 14 gol in 15 partite, che è un leader e il capitano. È ovvio che quando entra in campo, se è già in campo, può dare qualcosa in più rispetto alla media, visto che è un campione. Questo non vuol dire che la squadra, al di là di Lautaro, abbia fatto una partita normale. È stata una grande partita in una situazione in cui bisognava gestire un contesto. Inzaghi ha ragione quando dice in conferenza stampa che quelli che sono entrati dopo hanno avuto più terreno fertile perché quelli che hanno giocato dall'inizio hanno saputo resistere al fisico del Salzburgo e quindi hanno preparato il terreno per chi è entrato dopo. Ha assolutamente ragione e mi trova in assoluto accordo. Avete visto il titolo del video? Inzaghi mondial. Allora, ho giocato un po' sul discorso di Simone Inzaghi che in questo inizio di stagione ha portato la squadra, la sua squadra, l'Inter, a esprimersi a un livello molto alto non solo di prestazioni ma proprio a livello di gestione dei momenti del match. Ci sono state delle pecche, ovviamente, in questo inizio anno. Uno riguarda sicuramente la sconfitta in casa contro il Sassuolo che era da evitare, soprattutto perché Dunfri si assegna al 45esimo il primo tempo il gol del 1-0 e si va negli spogliatoi un minuto dopo con l'Inter in vantaggio. Quindi secondo tempo da gestire assolutamente in maniera diversa e sicuramente per non perdere la partita in casa contro il Sassuolo che non sta facendo un grande campionato. E poi i due punti persi contro il Bologna in casa quando la partita era sul 2-0 per noi in completo controllo, un paio di ingenuità e alla fine due punti persi. Detto questo stiamo parlando di una squadra che a novembre ha due partite alla fine del girone già qualificata per gli ottavi di Champions e che è prima in classifica con due punti di vantaggio sulla Juve e sei sul Milan in campionato, sette sul Napoli. Quindi stiamo parlando di un inizio di stagione molto molto importante da parte della squadra di Inzaghi. Inzaghi mondial, perché Inzaghi sta facendo un grande lavoro, secondo me lo sta facendo da tre anni, poi le critiche ci sono state anche da parte mia per il campionato che l'anno scorso non è stato assolutamente all'altezza dell'Inter, non è stato un campionato sufficiente, anche se poi l'Inter giustamente, per fortuna, ha ottenuto quello che doveva ottenere come minimo obiettivo, cioè la qualificazione alla Champions League di quest'anno. Però sono arrivate due coppe anche l'anno scorso e è arrivata la finale di Champions League. Quindi Inzaghi in questi tre anni ha lavorato molto bene, sta lavorando molto bene, manca l'acuto dello scudetto che speriamo possa arrivare quest'anno. Le premesse sono solo premesse, ma le premesse sono molto buone. mondiale, mondiale, ragazzi, con gli ottavi di finale di Champions League, con due giornate d'anticipo, l'Inter si qualifica matematicamente per il mondiale per club del 2025. Quindi se ne è parlato tanto, si è fatto tanto vociare, sono 32 squadre, le italiane saranno due, una sarà sicuramente l'Inter, che molto probabilmente si sarebbe qualificata lo stesso a questo mondiale anche senza ottenere il pass per gli ottavi di finale di Champions quest'anno, che comunque era un traguardo comunque da ottenere a prescindere dal mondiale per club, si sarebbe probabilmente qualificata lo stesso, ma adesso ha la certezza matematica del pass ottenuto per questi mondiali per club. È importante perché riporta l'Inter già in una buona posizione adesso, ma riporta l'Inter nel gota delle squadre mondiali, anche perché le europee saranno poche e sappiamo che in Europa si gioca il calcio di più alto livello rispetto con tutto il bene che si vuole agli altri campionati rispetto agli altri continenti. Poi si aspetterà ovviamente la seconda italiana, si giocano il posto la Juventus, che in questo momento è nella graduatoria davanti a Milano e Napoli, ma la Juventus non gioca le coppe europee, quindi il Milan e il Napoli hanno la grande possibilità, facendo un'ottima Champions League, di superare la Juve e giocarsela tra di loro per il secondo posto disponibile per le italiane in questo mondiale per club. E in Zaghi, bisogna parlare della società, io parlo spesso della società, del lavoro enorme che sta facendo senza avere grandissime disponibilità economiche. L'Inter è la squadra che spende meno rispetto alla Juventus sicuramente, rispetto al Milan, il Napoli comunque è un'altra squadra che risparmia e spende poco, ottenendo ottimi risultati. Però la società fa un grande lavoro, parliamo di Cialanoglu a zero, parliamo di De Braille a zero, parliamo di Acerbi a zero, parliamo dello stesso Sommer, con un portiere titolare preso a zero e venduto a 60, Onana e preso Sommer, che sta facendo benissimo, a 6. Possiamo parlare di tantissimi giocatori, Lautaro preso a 16 e adesso è diventato un campione, Turam preso a zero, possiamo andare avanti fino a domani mattina. Quindi faccio spesso cenno alla società, faccio spesso cenno ai giocatori, parlando di quanto sono bravi e quanto bene stiano facendo, parlo meno dell'allenatore, perché è una trappola parlo all'allenatore, me ne sono accorto l'anno scorso. Quando si parla dell'allenatore, se parli bene perché vinci, se parli male perché perdi, non c'è mai per chi ti ascolta la possibilità di capire che tu analizzi i momenti. Ho sempre difeso Inzaghi il primo anno, l'ho criticato molto per il campionato dell'anno scorso, non per la stagione, perché stiamo parlando di uno che fa la finale di Champions League e vince due coppe, però se si vuole guardare a 360 gradi in questi tre anni di Simone Inzaghi, e lui in conferenza l'ha detto, Inzaghi ha portato l'Inter al Mondiale per club. Inzaghi ha portato l'Inter sul tetto, quasi sul tetto d'Europa, però per una squadra costruita come è stata costruita l'Inter, arrivare in finale di Champions e giocarsela in quella maniera con il Manchester City, battendo il Milan in semifinale, per chi ha vissuto come me il 2003 e la semifinale del 2003, persa per l'Inter, vincere quel derby di semifinale, giocando così, senza subire golle, vincendo entrambe le partite, è qualcosa che vale tantissimo. E quindi bisogna ringraziare l'allenatore per quello che sta portando a questa squadra, perché è una squadra che gioca bene, è una squadra che valorizza i propri giocatori, è una squadra che ha, come ha detto Marotta, creato un gruppo solido, al di là del gioco, al di là degli schemi, al di là della bellezza, della concretezza della squadra, ha creato un gruppo compatto, di giocatori che si supportano, anche fresca la dichiarazione di Bastoni di oggi, che dice, non importano gli egoismi, qua all'Inter, qua si gioca per un obiettivo che è troppo importante per guardare al proprio orticello. Questo è quello che ha creato Simone Inzaghi, al di là delle vittorie, al di là del giocare bene, o giocare male, o vincere le partite, ha creato questa unità di gruppo, che sta portando l'Inter a vedere giocatori che non si lamentano se stanno in panchina, che non si lamentano se escono, che non si lamentano se giocano poco, e sono sempre pronti a incitare i compagni. Forse è questa la vera forza dell'Inter, creata da Simone Inzaghi. Poi Inzaghi Mundial, perché Inzaghi ci ha portato secondo posto in Europa, dietro al Manchester City, che è una squadra fortissima, che ha speso un sacco di soldi per arrivare fino a lì, e ci ha portato adesso a essere tra le 32 finaliste di questo Mondiale per Club. Mondiale per Club che l'Inter aspettava dal 2010, quindi saranno 15 anni, nel 2025, il Mondiale per Club che l'Inter l'ultima volta l'ha giocato, ha alzato il trofeo con Zanetti, con la vittoria dopo il triplete di quel Mondiale per Club, che era un Mondiale per Club un pochino più asciutto. L'Inter giocò una semifinale contro una squadra coreana e la finale contro il Ma Zenbe, quindi vittoria sicuramente importante perché la Coppa è quella che ti dà la Coppa del Mondiale per Club e quindi campione del mondo. Questo Mondiale sarà un pochino più strutturato, un pochino diverso, è sicuramente più difficile da vincere, ma anche molto più interessante a livello di competizione. Quindi complimenti all'Inter, adesso si resetta, si gira pagina, si pensa al Frosinone che arriva domenica, che è un'altra partita molto importante per andare alla sosta davanti alla Juve che incontreremo dopo la sosta a Torino e quindi bisogna concentrarsi su questa, la pagina della Champions deve essere girata, ci si pensa quando torniamo dopo la Juventus. E quindi in Zaghi si toglie anche un sassolino dalla scarpa dicendo nel mio lavoro in tre anni siamo andati tre volte negli ottavi di finale e questa volta ci siamo qualificati con due giornate d'anticipo cosa che non succedeva dal 2006. Quindi complimenti all'Inter e complimenti a Simone Inzaghi. Intanto noi riposiamoci un po' e poi ci concentriamo sul Frosinone che è partita da affrontare nella maniera giusta, con la determinazione giusta e soprattutto con la testa giusta. sempre Forza Inter ragazzi campanella per la notifica dei video pollice in su se vi è piaciuto questo video e poi mi raccomando iscrivetevi al canale ciao ragazzi sempre Forza Inter Grazie a tutti i nostri